Amici è con immenso piacere che vi annuncio un collegamento straordinario, per la puntata di questa stasera abbiamo realizzato, pensate un po', un collegamento direttamente con Miami dove è impegnato il team Ferrari nella gara di Formula 1 e sappiamo benissimo che il pilota Antonio Giovinazzi, Martinese Doc, è lì con il team come terzo pilota e segue la squadra, ma lui è impegnato e abbiamo seguito le vicende positive dell'ultimo appuntamento nel campionato Endurance dove Ferrari è presente con due vetture. Abbiamo con noi Antonio Giovinazzi, ho sbagliato qualcosa Antonio? Ciao a tutti, no no no, tutto corretto. Sai che noi abbiamo sempre seguito le vicende della tua carriera e questo primo podio nella tua nuova esperienza in questo campionato che ti viene impegnato con la 499P, praticamente un prototipo categoria Hypercar, un campionato Endurance che ti vede già protagonista con il primo podio conquistato. Sarai sicuramente soddisfatto? Sì dai, dopo le prime due gare dove abbiamo avuto tantissima sfortuna sia al Sebring che a Portimao che non siamo riusciti a, diciamo, come macchina al 51 ad avere il risultato che volevamo, è andata al podio l'al 50, quindi sicuramente un inizio di stagione per Ferrari che torna in questa categoria dopo 50 anni con grande, diciamo, con grande soddisfazione, no? È una vapor position, diciamo, una mia torta per un track limit, però alla fine sulla carta sono state due, tre podi su tre gare, quindi un inizio di stagione importantissimo, è super per la Ferrari, il mio primo podio a Spa è una pista che sicuramente dice tanto con diverse condizioni, diciamo, di pista dalla prima all'ultima ora, quindi voluta veramente con i denti, presa all'ultimo giro dal mio compagno di squadra James Calado, quindi dai, adesso abbiamo un po', adesso sono qui a Miami, appunto, come riserva della scuderia di Formula 1 e poi, appunto, super focus per la prossima gara che sarà, diciamo, la gara più importante della stagione, la 24 ore di Le Mans, che è la gara dove tutti aspirano a fare bene, e quindi anche noi saremo a Monza già prossima settimana e poi, appunto, super focus per tra un mese e per la 24 ore di Le Mans. Senti, Toyota dominatrice, no? Di questa prima fase, anche l'anno scorso, nella edizione dello scorso anno, secondo te è colmabile questo gap tra Ferrari e Toyota? Ma, Toyota è in questo campionato, come detto, da parecchi anni e quindi noi ci aspettavamo una, diciamo, una supremazia, ecco, da parte di Toyota. In queste gare l'ha dimostrato, però alla fine gli abbiamo dato, diciamo, secondo me un po' di pressione, soprattutto nel giro secco, dobbiamo ancora, appunto, migliorare in gara, dove ci manca un po' di esperienza in generale, però alla fine l'obiettivo è quello, no? Migliorarsi gara per gara e dare sempre più pressione alla Toyota. Loro sicuramente saranno e sono i favoriti per la 24 ore di Le Mans, però la 24 ore di Le Mans è una gara molto lunga che quindi ci può, appunto, dare delle sorprese e quindi dobbiamo solo cercare di fare una gara pulita, non avere errore e sono sicuro che saremo in una buona posizione. Senti, tu lo sai, a Martina hai un fan club che racchiude il cuore dei tuoi tifosi più affezionati, c'è un messaggio che vuoi inviare a loro? Anche se il filo diretto tuo è costante ed è continuo con loro. Guarda, colgo l'occasione, appunto, di dire che, appunto, il fan club sta organizzando una bella iniziativa per Le Mans, proprio per la 24 ore, dove con, appunto, Vincenzo Angelini stiamo cercando di, con la, diciamo, festa dello sport che si terrà la settimana prima, di iniziare, appunto, una settimana prima con una iniziativa per, appunto, l'avvicinamento alla 24 ore di Le Mans, poi alle 24 ore di Le Mans ci sarà un mega schermo che, appunto, darà la gara in diretta, in più c'è, appunto, il mio fan club dove si potrà seguire, e quindi, appunto, colgo l'occasione, appunto, di, da tutti i martinesi di supportarmi per questa gara, che sarà una gara importantissima per me, importantissima per Ferrari, e quindi avremo bisogno del loro supporto, ecco. E mi hai anticipato, perché proprio questa è l'altra domanda che ti devo fare, riguardo a questo, a questi preparativi che coinvolgono l'amministrazione comunale e nella persona dell'assessore allo sport, Vincenzo Angelini, che è il tuo primo supporter, eh, davvero, e ci tiene a montare un maxi schermo per far seguire, a proposito, ricordiamo che le gare del campionato World Endurance Championship sono trasmesse da Eurosport sul canale 211 di Sky. Ma, ripeto, ci tiene l'amministrazione comunale a dare ampio risalto e risonanza a questa gara prossima, che ti vedrà impegnato. Sì, infatti, sono orgoglioso, no? Perché alla fine è una gara importantissima per me, ma anche per la Ferrari che torna alle mani dopo 50 anni, e quindi ci sarà sicuramente tantissima gente alle mani, però spero appunto che ci sarà tantissima gente a mattina, ma in Italia in generale, a supportarci, perché saranno 24 ore molto lunghe e quindi con il loro affetto e con il loro supporto saranno, diciamo, meno faticose. Ecco, e quindi cercheremo di fare il nostro massimo e di far divertire tutti. Senti, tu hai una storia personale legata a questo territorio, tu sei sempre rimasto legato alle tue radici, in particolare la tua famiglia. So che papà ti ha seguito anche a Spa, è vero? Il tuo primo tifoso. Sì, papà è stato, è vero, il mio primo tifoso. Sì, papà è stato a Spa, è stato a Spa, diciamo, come prima gara del WEC, e direi che ha portato bene, no? Ha portato fortuna perché siamo riusciti a conquistare il primo podio. Cosa dire? Cioè, alla fine i genitori in generale sono sempre i primi tifosi dei figli, lo è anche mio papà, la mia famiglia, che mi ha sempre seguito da quando sono stato finito dai go-kart, e quindi senza di loro sicuramente in questo momento non sarei qui a, diciamo, alla realizzazione del mio sogno, no? Perché fin da piccolino è il sogno di un ragazzo che inizia, un bambino che inizia col go-kart, è quello di diventare un primiore di Formula 1, un professionista di questo sport, e diciamo è stato quello che ho fatto nella mia carriera. Quindi grazie a loro, grazie appunto alle mie origini, dove ho iniziato, diciamo che ho iniziato lì in Puglia, nei campionati regionali e tutto, e quindi ho fatto tantissima strada, ma che ne valsa la pena perché ho realizzato il mio sogno, che è una delle cose più belle nella vita. Senti, una curiosità, Antonio, si ripete anche nel vostro mondo dei motori qualche gesto scaramantico? Cioè, c'è qualcosa che tu ripeti, magari inconsciamente, che ritieni che ti possa portare fortuna nel tuo percorso personale? Sì, qualcosa che ho sempre fatto e che sempre farò è entrare in macchina dalla sinistra, quindi entrare in macchina sempre dall'alto sinistro della macchina, è una cosa che ho fatto nel tempo del go-kart e continuo a fare ancora adesso. Ebbè, senti, intanto ti ringraziamo, Antonio, per la tua disponibilità che hai sempre mostrato verso di noi, ma permettimi di ringraziare il tuo papà che ha fatto da tramite, ma soprattutto l'ufficio comunicazione della Ferrari, persone squisite che si sono davvero dimostrate disponibili e sensibili alla nostra richiesta. Noi non siamo una grande testata, ma seguiamo, ti abbiamo sempre seguito con grande affetto e partecipazione. e ti auguriamo un bel in bocca al lupo per il prossimo appuntamento alle Mans e noi saremo a tifare per la tua performance dinanzi al maxischermo che l'assessore Angelini vorrà allestire, è già annunciata questa nuova disposizione dell'amministrazione comunale che ha voluto coinvolgere per questa esperienza nuova in questo nuovo campionato. Grazie Antonio Giovinazzi e ringrazia anche da parte nostra tutto l'ufficio comunicazione della Ferrari. Grazie ancora. Grazie a voi, un abbraccio fortissimo e crepi il lupo per le mani. Un abbraccio.